Lezione 1. Lista della spesa del supermercato. Ciao Anna, anch'io sto finendo il latte e le uova. Che mi dici di te? Ciao John, anch'io ho bisogno di rifornirmi di latte e potrei usare delle verdure fresche. Suona bene. Dovremmo fare una lista della spesa per assicurarci di non dimenticare nulla. Questa è un'ottima idea. Aggiungerò uova, latte e verdure alla lista. Cos'altro ci serve? Dovremmo controllare se abbiamo abbastanza pane e cereali per la colazione. Bene, aggiungerò pane e cereali alla lista. Abbiamo bisogno di snack o bevande. Hmm, magari patatine e soda per le serate al cinema a casa? Una buona idea. Aggiungerò anche patatine e soda alla lista. C'è altro? Dovremmo anche mangiare pollo e pasta per cena questa settimana. Pollo e pasta. Capito. Altro per i nostri pasti? Sarebbe bello avere anche della frutta come mele e banane. Mele e banane. Perfette. La nostra lista della spesa sta andando bene. Effettivamente. Hai bisogno di qualcosa di speciale per le tue ricette o preferenze alimentari? Ho intenzione di preparare un'insalata, quindi aggiungerò lattuga e pomodori alla lista. Ottima scelta. Li aggiungerò anche io. C'è qualcos'altro che non dovremmo dimenticare? Penso che abbiamo coperto tutto. Rivediamo l'elenco ancora una volta. Va bene. Abbiamo bisogno di uova, latte, verdure, pane, cereali, patatine fritte, soda, pollo, pasta, mele, banane, lattuga e pomodori. Sembra esaustivo. Ora siamo pronti per andare a fare la spesa. Prima di andare, controlliamo se abbiamo coupon o sconti per risparmiare. Buona idea. Possiamo anche portare le nostre borse riutilizzabili per essere ecologiche. Assolutamente. Prendiamo le nostre borse della spesa e usciamo. Fare la spesa. Arriviamo. È sempre divertente esplorare i corridoi e trovare nuovi ingredienti. Facciamo in modo che sia un viaggio produttivo. Sicuramente. Troveremo tutto ciò di cui abbiamo bisogno e magari scopriremo anche qualche nuovo oggetto da provare. Non vedo l'ora. Andiamo a fare in modo che la nostra spesa sia un successo. Concordato. Andiamo. È ora di riempire il frigorifero e la dispensa con tutto l'essenziale. Lezione 2. Mostrare le competenze. Ciao Anna. Sono nervosa per il mio prossimo colloquio di lavoro. Qualche consiglio? Ciao. Non preoccupatevi. Puoi comunque stupirli mettendo in risalto le tue abilità. In cosa sei bravo? Beh, ho ottime capacità di risoluzione dei problemi e forti capacità comunicative. È fantastico. Assicurati di menzionarli durante l'intervista. Quali altre competenze possiedi? Sono anche esperto in linguaggi di programmazione come Python e Java. È impressionante. Le competenze tecniche sono molto apprezzate in molti settori. Cos'altro puoi mostrare? Sono esperto nella progettazione grafica e ho esperienza con Adobe Photoshop e Illustrator. È fantastico. Le competenze di progettazione visiva possono farti risaltare. C'è altro che vuoi menzionare? Parlo correntemente anche lo spagnolo e ho esperienza di lavoro in ambienti multiculturali. Il bilinguismo e la competenza interculturale sono sicuramente risorse preziose. Che mi dici delle tue capacità di leadership? Ho guidato diversi progetti di successo e ho un talento per motivare e guidare i team. È eccellente. Le capacità di leadership dimostrano la tua capacità di assumerti il controllo e ottenere risultati. Altri punti di forza? Imparo velocemente e mi adatto bene alle nuove tecnologie e ai nuovi software. L'adattabilità e l'apprendimento continuo sono molto richiesti. È fantastico che tu possieda queste qualità. Grazie per l'incoraggiamento. Ora mi sento più fiducioso. Dovresti. Le tue capacità ed esperienze ti rendono un candidato forte. Credi solo in te stesso. Hai ragione andrò al colloquio con una mentalità positiva e mostrerò le mie capacità. Questo è lo spirito. Ricordati di fornire esempi specifici di come hai applicato le tue competenze. Assolutamente. Preparerò alcune storie di successo da condividere durante l'intervista. Questo è un approccio intelligente. Renderà le tue abilità più tangibili e memorabili per l'intervistatore. Apprezzo la tua guida. È rassicurante avere qualcuno con cui discuterne. Sono felice di aiutare. Hai questo. Ti auguro buona fortuna per il colloquio. Grazie mille. Il tuo supporto significa molto per me. Farò del mio meglio. Lezione 3. Fitness e dieta Ciao Anna. Ultimamente mi sto concentrando sui miei allenamenti. Voglio sfruttare al massimo primo miei sforzi. Segui qualche programma dietetico insieme alla tua routine di fitness? Ciao John. È bello sentirlo. Sì, seguo una dieta equilibrata per completare i miei allenamenti. Mi aiuta a mantenere l'energia e a raggiungere i miei obiettivi di fitness. Questo è interessante. In cosa consiste in genere la tua dieta? Ci sono alimenti specifici a cui dai la priorità? La mia dieta include principalmente proteine magre come pollo e pesce, molta frutta e verdura, cereali integrali e grassi sani come avocado e noci. Sembra una dieta a tutto tondo. Dovrei incorporare più di questi alimenti nei miei pasti. Ci sono cibi che dovrei evitare? È meglio limitare gli alimenti trasformati, le bevande zuccherate e gli alimenti ricchi di grassi saturi o zuccheri aggiunti. Optate per opzioni naturali e non trasformate quando possibile. Capisco. Evitare gli alimenti trasformati a senso. Farò uno sforzo consapevole per scegliere opzioni più salutari. Hai qualche consiglio per la pianificazione dei pasti? La pianificazione dei pasti è utile per rimanere in pista. Suggerisco di preparare i pasti in anticipo, incluso un equilibrio di proteine, carboidrati e verdure. Pianificare in anticipo sembra una buona strategia. Mi farà risparmiare tempo e mi assicurerà di avere pasti nutrienti prontamente disponibili. Che ne dici del controllo delle porzioni? Il controllo delle porzioni è importante. Ascolta i segnali di fame e sazietà del tuo corpo. È anche utile utilizzare piatti e ciotole più piccoli per controllare visivamente le porzioni. Lo terrò a mente. Il controllo delle porzioni può essere difficile, ma l'uso di piatti più piccoli potrebbe essere d'aiuto. Hai qualche consiglio per spuntini salutari? Assolutamente. Alcune opzioni salutari per uno spuntino includono yogurt greco, noci, frutta, verdure crude con hummus o una piccola porzione di cioccolato fondente. Sembrano idee per snack deliziose e nutrienti. Faccio scorta di quegli articoli per quando avrò bisogno di uno spuntino veloce. Qualche consiglio per rimanere motivati? Rimanere motivati può essere difficile, ma fissare obiettivi realistici, monitorare i progressi e trovare una routine di esercizi che ti piace può mantenerti motivato a lungo termine. Sono d'accordo godersi la routine di esercizi è fondamentale per rimanere motivati. Esplorerò diverse attività per trovare ciò che mi piace veramente. Grazie per i suggerimenti. Siete i benvenuti. Ricorda, la coerenza è fondamentale. Rimani dedicato ai tuoi allenamenti e fai delle scelte salutari parte del tuo stile di vita. Hai questo. Grazie per l'incoraggiamento. Sono motivato ad apportare cambiamenti positivi nella mia routine di fitness e nelle mie abitudini alimentari. Ha uno stile di vita più sano. Lezione 4. Equilibrio tra lavoro e vita privata. Ciao Anna. Ultimamente mi sento sopraffatto dal lavoro. Qualche consiglio per mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata? Ciao John. Trovare un equilibrio è importante per il benessere generale. Hai pensato di incorporare alcune tecniche di rilassamento nella tua routine? Non ci ho pensato. Potrebbe valere la pena provare. Quali tecniche di rilassamento suggerisci? La meditazione consapevole e gli esercizi di respirazione profonda possono aiutare a ridurre lo stress. Promuovono il rilassamento e la concentrazione, permettendoti di ricaricarti. Sembra vantaggioso. Proverò alla meditazione e alla respirazione profonda. Ci sono altre strategie che mi consigliate? Sì, stabilire dei limiti è fondamentale. Impara a dire di no quando il piatto è già pieno. Assegna priorità alle tue attività e delega quando possibile. Stabilire dei limiti ha senso. È importante conoscere i miei limiti e non assumermi troppe responsabilità. Lavorerò sulla definizione delle priorità e sulla delega delle attività. Un altro aspetto da considerare è la gestione del tempo. Pianifica il tuo programma e assegna fasce orarie specifiche per il lavoro, il tempo libero e le attività di cura personale. La gestione del tempo è fondamentale. Creerò un programma che consenta di dedicare del tempo al relax e ad impegnarsi in attività al di fuori del lavoro. Qualche suggerimento per la cura di sé? La cura di sé è essenziale. Impegnati in attività che ti diano gioia e ti aiutino a rilassarti, come leggere, fare esercizio o trascorrere del tempo nella natura. Questi sono ottimi suggerimenti. Mi assicurerò di ritagliarmi del tempo per attività di cura personale che mi ringiovaniscano. Che ne dici dello stress legato al lavoro? Per gestire lo stress legato al lavoro, prova a suddividere le attività in passaggi più piccoli e gestibili. Festeggia i traguardi raggiunti lungo il percorso per rimanere motivato. La suddivisione delle attività sembra un approccio pratico. Celebrare i traguardi mi darà un senso di realizzazione. Qualche consiglio finale? Ricordati di disconnetterti dal lavoro durante il tempo libero. Stacca la spina dalla tecnologia. Dedicati agli hobby e trascorri del tempo di qualità con i tuoi cari. La disconnessione è importante. Farò uno sforzo consapevole per distaccarmi dal lavoro e godermi appieno il mio tempo libero. Grazie per le preziose informazioni. Siete i benvenuti. Dare priorità all'equilibrio tra lavoro e vita privata contribuirà alla tua felicità e al tuo benessere generali. Ti auguro di riuscire a trovare quell'armonia. Grazie per il supporto. Sono determinato ad apportare cambiamenti positivi e a raggiungere un equilibrio più sano tra lavoro e vita privata. Verso una vita più appagante. Lezione 5. Alloggi di viaggio Ciao Anna. Sto programmando un viaggio e sto cercando di decidere se soggiornare in hotel o Airbnb. Qual è la tua preferenza? Ciao John. Questo è un buon approccio. Personalmente, mi piace l'esperienza unica di soggiornare in alloggi Airbnb. Puoi immergerti nella cultura locale. Questo è interessante. Ho sentito parlare bene di Airbnb. Ci sono dei vantaggi nel soggiornare in hotel che dovrei prendere in considerazione? Assolutamente. Gli hotel offrono spesso più servizi come il servizio in camera, le pulizie e l'accesso a strutture come piscine o palestre. Ah, capisco. Avere queste comodità può essere molto allettante. D'altra parte, con Airbnb, immagino che tu abbia maggiore flessibilità e privacy. Questo è corretto. Airbnb offre una varietà di opzioni, da intere case a stanze private. È ottimo per chi preferisce un'esperienza più indipendente e personalizzata. Mi piace l'idea di avere più libertà e privacy. Ci sono problemi di sicurezza con Airbnb di cui dovrei essere a conoscenza? È sempre importante leggere le recensioni, controllare il profilo dell'host e verificare le caratteristiche di sicurezza della struttura. Airbnb dispone di misure di sicurezza, ma è bene essere cauti. La sicurezza è una priorità assoluta, quindi mi assicurerò di fare la dovuta diligenza prima di prenotare. Ci sono differenze di costo tra hotel e Airbnb? Il costo può variare a seconda della posizione, del tipo di alloggio e della stagione. In generale, Airbnb può essere più economico, soprattutto per soggiorni più lunghi. Il budget è sicuramente un fattore per me. Risparmiare sugli alloggi mi consentirebbe di destinare di più ad altri aspetti del viaggio. Qualche pensiero finale? In definitiva, dipende dalle preferenze personali e dal tipo di esperienza di viaggio che stai cercando. Sia gli hotel che gli Airbnb hanno i loro vantaggi. Questo ha senso. Valuterò i pro e i contro e considererò ciò che conta di più per me per questo viaggio. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Siete i benvenuti. Spero che troviate la sistemazione perfetta per il vostro viaggio. Goditi i tuoi viaggi e vivi un'esperienza meravigliosa. Ovunque tu decida di soggiornare. Grazie per gli auguri. Sono entusiasta di pianificare il mio viaggio e trovare il posto ideale in cui soggiornare. Ecco avventure indimenticabili. Lezione 6. Piani per picnic Ciao Anna. Cosa ne pensi di fare un picnic questo fine settimana? Sarebbe una grande opportunità per godersi la vita all'aria aperta. Ciao John. Sembra un'idea meravigliosa. Adoro i picnic. Che ne dici di invitare anche alcuni amici a unirsi a noi? Buona idea. Un picnic con gli amici sarebbe ancora più piacevole. Possiamo passare dei bei momenti insieme. Cosa dobbiamo portare per il picnic? Possiamo portare panini, frutta e snack. È sempre bello avere una varietà di prelibatezze da gustare durante il picnic. Assolutamente. Panini, frutta e snack sono essenziali per i picnic. Possiamo anche portare delle bevande rinfrescanti per dissetarci. Le bevande rinfrescanti sarebbero perfette. Forse della limonata fatta in casa o del tè freddo. Aggiungerà un tocco rinfrescante al picnic. Dovremmo portare giochi o attività. Giochi o attività sarebbero fantastici per intrattenere tutti. Possiamo portare un frisbee o una palla per fare alcuni giochi all'aperto durante il picnic. Giocare a giochi all'aperto come il frisbee o la palla sarebbe molto divertente. Aggiungerà un elemento attivo al picnic. Non vedo l'ora. Qualche suggerimento per il luogo del picnic. Possiamo scegliere un parco vicino con ampie aree verdi e ombra. Fornirà un posto comodo e panoramico per il nostro picnic. Un parco con spazi verdi e ombra sembra l'ideale. Possiamo rilassarci e goderci la natura circostante. Sarà un picnic memorabile. Grazie per averlo suggerito. Siete i benvenuti. I picnic sono un ottimo modo per trascorrere del tempo di qualità con gli amici e godersi la natura. Trasformiamola in una fantastica esperienza di picnic. Lezione 7. Trasformazione della camera economica. Ciao Anna. Hai mai trasformato una stanza senza spendere molto? Sto cercando idee economiche per rinnovare il mio salotto. Ciao John. Sì, ce l'ho. Si può realizzare una trasformazione notevole senza spendere una fortuna. Quali cambiamenti stat considerando? Sto pensando di ridipingere le pareti e riorganizzare i mobili per un look nuovo. Qualche altro suggerimento per abbellire lo spazio? Ridipingere le pareti può fare una differenza significativa. Puoi anche prendere in considerazione l'aggiunta di cuscini, tende o tappeti decorativi per aggiungere colore e consistenza alla stanza. Questa è un'ottima idea. L'aggiunta di elementi decorativi come cuscini, tende e tappeti può migliorare istantaneamente l'estetica della stanza. Qualche consiglio per trovare un arredamento a prezzi accessibili? I negozi dell'usato, i mercati online e i progetti fai-da-te sono ottime fonti di arredamento a prezzi accessibili. Puoi trovare pezzi unici a una frazione del costo. I negozi dell'usato e i mercati online meritano sicuramente una visita. Terrò d'occhio i tesori a prezzi accessibili. Che ne dici dell'illuminazione? Qualche suggerimento? L'illuminazione gioca un ruolo cruciale nella creazione dell'atmosfera. Puoi sostituire gli apparecchi obsoleti con altri più moderni ed efficienti dal punto di vista energetico o aggiungere delle lampade eleganti per un'atmosfera accogliente. Aggiornare gli apparecchi di illuminazione o aggiungere lampade eleganti sembra un ottimo modo per elevare l'atmosfera della stanza. Creerà uno spazio caldo e invitante. Qualche consiglio finale? Non sottovalutate il potere del decluttering e dell'organizzazione. È un modo gratuito per rendere il tuo soggiorno più spazioso e invitante. Inoltre, migliora la funzionalità. Il decluttering e l'organizzazione sono passaggi essenziali. Uno spazio ordinato renderà la stanza più aperta e piacevole. Sono entusiasta di iniziare la trasformazione della mia camera economica. Grazie per l'utile consiglio. Lezione 8. Piani di viaggio Ciao Anna, sento il bisogno di una vacanza. Che ne dici di pianificare un viaggio? Ciao John. Sembra fantastico. Anch'io avrei bisogno di una pausa. Dove pensi di andare? Ho sempre voluto visitare un'isola tropicale. L'idea di spiagge di sabbia bianca e acque cristalline sembra incredibile. Oh, adoro quel suono. Una vacanza su un'isola tropicale sarebbe così rigenerante. Hai in mente qualche destinazione specifica? Ho sentito parlare molto bene di Bali e delle Maldive. Offrono spiagge meravigliose e un'esperienza culturale unica. Bali e le Maldive sono famose per le loro bellezze naturali. Sarebbe un sogno esplorare quei luoghi. Quando dobbiamo andare? Che ne dici del mese prossimo? Possiamo approfittare della bassa stagione quando il clima è ancora favorevole ed è meno affollato. Il mese prossimo sembra perfetto. Possiamo evitare la folla e godere di un'atmosfera più tranquilla. Sono emozionato. Dobbiamo prenotare un alloggio? Sì, me ne occuperò io. Finalizzerò le nostre prenotazioni e ti contatterò con i dettagli. Possiamo scegliere un'accogliente villa fronte mare o un resort di lusso. Sembra fantastico. Una villa sulla spiaggia o un resort di lusso renderebbero il nostro soggiorno ancora più memorabile. Non vedo l'ora di sentire le opzioni. Mi assicurerò di trovare le migliori opzioni entro il nostro budget. Voglio che viviamo un'esperienza indimenticabile. Qualche altra attività che vorresti fare? Mi piacerebbe provare lo snorkeling o le immersioni per esplorare la vivace vita marina. È una grande opportunità per apprezzare il mondo sottomarino. Lo snorkeling e le immersioni sono attività imperdibili. Possiamo ammirare la bellezza sotto la superficie. Sarà un'avventura da ricordare. Grazie per aver suggerito questa vacanza. Lezione 9. Obiettivi di fitness Ciao Anna, ti alleni regolarmente? Cerco di rimanere attivo e mantenere una routine di fitness. Ciao John. Sì, credo nell'importanza dell'esercizio. Lo faccio almeno tre volte a settimana. Ma a volte la vita si mette in mezzo. Capisco. Può essere difficile attenersi a una routine costante. Quali tipi di esercizi ti piacciono di più? Mi piacciono una varietà di esercizi come jogging, yoga e allenamento della forza. Mescolarlo mantiene le cose interessanti e fa funzionare diverse parti del corpo. È fantastico. La varietà di esercizi aiuta a colpire diversi gruppi muscolari e previene la noia. Come rimanere motivati ad allenarsi regolarmente? Trovo utile fissare obiettivi realistici e monitorare i miei progressi. Mi mantiene motivato e responsabile. Hai qualche consiglio? Stabilire obiettivi e monitorare i progressi è davvero efficace. Un altro consiglio è trovare un compagno di allenamento o partecipare a un corso di fitness. Aggiunge un aspetto sociale e lo rende più piacevole. Fare esercizio con un amico o partecipare a un corso di fitness sembra un'ottima idea. Fornisce supporto e mantiene alta la motivazione. Cosa fai quando non riesci a trovare il tempo per un allenamento completo? Quando non riesco a trovare il tempo per un allenamento completo, cerco di incorporare l'attività fisica nella mia routine quotidiana. Salire le scale invece dell'ascensore o fare una breve passeggiata durante le pause pranzo può fare la differenza. Questo è un approccio intelligente. Trovare piccoli modi per essere attivi durante il giorno è una buona strategia. Si tratta di rendere il fitness parte del nostro stile di vita. Grazie per aver condiviso le tue opinioni. Fare dell'esercizio fisico una parte costante della nostra vita è benefico per il benessere fisico e mentale. Continuiamo a lottare per raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Lezione 10. Consigli per la cura della pelle. Ciao Anna, ultimamente ho sentito parlare molto delle routine di cura della pelle. Hai qualche consiglio sui prodotti più richiesti? Ciao John. La cura della pelle è importante e ci sono molti ottimi prodotti in circolazione. Un'opzione popolare è una crema idratante con acido ialuronico. È noto per le sue proprietà idratanti. La crema idratante all'acido ialuronico sembra interessante. Quella mi piace. Fammi provare sulla mia pelle. Ci sono marchi specifici che consiglieresti? Esistono diversi marchi rinomati che offrono creme idratanti all'acido ialuronico. Alcuni popolari includono Neutrogena, Cerave e De Ordinary. Neutrogena, Cerave e De Ordinary sono marchi noti. Esaminerò le loro creme idratanti a base di acido ialuronico. Che mi dici della crema solare? Qualche consiglio in merito? La protezione solare è fondamentale per proteggere la pelle dai dannosi raggi UV. Una scelta popolare è una crema solare ad ampio spettro con SPF 30 o superiore. Cerca marchi come la Roche Posay, Elta MD o Aveeno. La protezione solare ad ampio spettro con SPF 30 o superiore è un must. Darò un'occhiata alla Roche Posay, Elta MD e Aveeno per le loro opzioni di protezione solare. Ci sono altri prodotti per la cura della pelle che dovrei prendere in considerazione? Un altro prodotto popolare è un detergente delicato. Cercane uno adatto al tuo tipo di pelle. Marchi come Cetafil, Cerave e Simple sono noti per i loro detergenti efficaci ma delicati. Un detergente delicato è essenziale per una routine di cura della pelle. Esplorerò le opzioni di Cetafil, Cerave e Simple. Grazie per i consigli. Ciao Anna, hai incontrato tua cugina al centro commerciale? Com'è andata la tua giornata? Ciao John. Sì, ho incontrato mia cugina al centro commerciale e ci siamo divertiti molto insieme. Abbiamo fatto acquisti e ci siamo informati sulle vite degli altri. Sembra una giornata divertente. Incontrare la famiglia e fare shopping può essere piacevole. Hai trovato qualcosa di interessante durante lo shopping? Sì, abbiamo trovato delle ottime offerte. Ho comprato un vestito nuovo e un paio di scarpe e mio cugino ha trovato un fantastico gadget che desiderava da tempo. È sempre emozionante trovare buoni affari e acquistare qualcosa di nuovo. Il vestito e le scarpe devono starti benissimo. Hai visitato altri negozi? Abbiamo dato un'occhiata alle vetrine e dato un'occhiata ad altri negozi. C'era una libreria con un'ampia selezione di libri e abbiamo passato un po' di tempo a curiosare lì. Navigare in una libreria può essere un'esperienza rilassante e arricchente. Alla fine hai comprato dei libri o ti sei semplicemente divertito a sfogliarli? Entrambi non abbiamo resistito e abbiamo finito per comprare un paio di libri. Uno era un bestseller e l'altro era un classico che entrambi volevamo leggere. Meraviglioso! I libri sono un tesoro ed è bello che tu e tua cugina condividiate l'amore per la lettura. Hai mangiato qualcosa al centro commerciale? Sì, abbiamo fatto una pausa e abbiamo pranzato in un accogliente bar del centro commerciale. Abbiamo gustato dei deliziosi panini e abbiamo chiacchierato davanti a una tazza di caffè. Il pranzo in un bar sembra delizioso. È bello rilassarsi e ricaricarsi durante un giro di shopping. Hai avuto conversazioni interessanti con tua cugina? Assolutamente! Ci siamo confrontati sulle vite degli altri. Abbiamo condiviso storie e rievocato i nostri ricordi d'infanzia. È stato un periodo significativo insieme. Trascorrere del tempo di qualità con la famiglia e creare ricordi non a prezzo. Sono contenta che tu abbia passato una splendida giornata al centro commerciale con tua cugina. Lezione 12. Godere di una vista privata. Ciao Anna, sei mai stata al ristorante sul tetto del centro? Ho sentito che hanno una vista bellissima. Ciao John. Sì, ci sono stato. Il ristorante sul tetto offre non solo cibo delizioso, ma anche una vista mozzafiato sullo skyline della città. Sembra incredibile. Adoro cenare con vista. Inoltre, possiamo goderci anche la splendida vista e la privacy. È necessario effettuare una prenotazione? Sì, è consigliabile effettuare una prenotazione, soprattutto nelle ore di punta. In questo modo, possiamo assicurarci un tavolo con la vista migliore ed evitare tempi di attesa. Effettuare una prenotazione è una buona idea. Non vorrei perdere l'occasione di godermi il panorama. Hanno una varietà di opzioni alimentari? Assolutamente. Il ristorante sul tetto offre un menù vario con opzioni che vanno dalla cucina internazionale alle specialità locali. Ce n'è per tutti i gusti. È bello sentirlo. Apprezzo avere una varietà di scelte quando si tratta di cenare. I prezzi sono ragionevoli? I prezzi sono abbastanza ragionevoli considerando la qualità del cibo e l'atmosfera. È un'esperienza utile, soprattutto con la vista mozzafiato. È bello sapere che i prezzi sono ragionevoli. Credo che valga la pena investire in un'esperienza culinaria memorabile. Il ristorante è affollato? Il ristorante può essere affollato, soprattutto durante i fine settimana e la sera. Tuttavia, poiché si tratta di una struttura sul tetto, i posti a sedere sono ben distanziati, offrendo un senso di privacy. Questo è un bonus. La privacy si aggiunge all'esperienza culinaria complessiva. Preferisco un ambiente più intimo. C'è altro che dovremmo sapere prima di andare? Vale la pena notare che il ristorante sul tetto ha un codice di abbigliamento casual, quindi possiamo vestirci comodamente. Inoltre, non dimenticate di portare la fotocamera per immortalare il panorama mozzafiato. Lo terrò a mente. Abbigliamento casual e una macchina fotografica per immortalare i ricordi. Non vedo l'ora di ammirare la splendida vista e di gustare un delizioso pasto con te. Lezione 13. I misteri del cosmo Ciao Anna, hai mai alzato lo sguardo al cielo notturno e ti sei meravigliata della vastità dello spazio? Tutte quelle stelle sono così intriganti. Ciao John. Assolutamente. Il cosmo mi ha sempre affascinato. È incredibile pensare alla vastità dell'universo e al nostro posto al suo interno. Non potrei essere più d'accordo. L'enorme numero di stelle là fuori è svalorditivo. Sapevi che ogni stella rappresenta un potenziale sole con i suoi pianeti? Sì, è affascinante immaginare le possibilità. Con così tante stelle, la possibilità di altri pianeti abitabili e di vita extraterrestre sembra probabile. È un pensiero accattivante. L'idea di esplorare altri mondi e incontrare forme di vita aliene è roba da fantascienza. Ci sono costellazioni famose che conosci? Certamente. Una costellazione ben nota è Orione, che è facilmente riconoscibile con il suo distinto schema di stelle. È stata osservata e studiata per secoli. Orione è davvero una costellazione famosa. Le sue stelle prominenti hanno la forma di un cacciatore. Hai mai provato a osservare le stelle e a identificare le costellazioni da solo? Sì, ce l'ho. Può essere un'attività divertente ed educativa. Sono disponibili app e mappe per osservare le stelle che aiutano a identificare le costellazioni e le loro storie. È bello saperlo. Usare la tecnologia per migliorare la nostra esperienza di osservazione delle stelle è un'idea fantastica. Ci sono altri oggetti celesti che catturano il tuo interesse? Trovo le galassie particolarmente intriganti. Il pensiero di innumerevoli stelle e corpi celesti che formano un vasto sistema è impressionante. La galassia di Andromeda, ad esempio, è uno spettacolo mozzafiato. Sono d'accordo le galassie sono affascinanti. La galassia di Andromeda, essendo la galassia a spirale più vicina alla nostra Via Lattea, è uno spettacolo da non perdere. Ti fa capire l'enormità dell'universo. C'è qualcos'altro nello spazio che ti stupisce? Il concetto di buchi neri è allo stesso tempo affascinante e misterioso. L'idea che siano oggetti incredibilmente densi con forze gravitazionali così forti che nulla può sfuggire è sbalorditiva. I buchi neri sono davvero sbalorditivi. Spingono i confini della nostra comprensione della fisica. I misteri del cosmo continuano ad affascinarci, vero? Assolutamente. Più impariamo, più ci rendiamo conto di quanto c'è da scoprire. Lo spazio è una fonte inesauribile di meraviglia e curiosità. Lo è davvero. La vastità e i misteri dello spazio ci ricordano il nostro posto nell'universo e la nostra insaziabile sete di conoscenza. Continuiamo a esplorare e apprezzare le meraviglie del cosmo. Lezione 14. Una giornata impegnativa e promemoria per la lavanderia. Ciao Anna, sembra che tu abbia avuto una giornata impegnativa. Cosa hai combinato? Ciao John. Sì, è stato piuttosto frenetico. Avevo molte commissioni da sbrigare e anche della biancheria da sbrigare. Capisco. Fare commissioni può tenerti alerta. A proposito, non dimenticare di... Oh, sì. Hai ragione. Ho bisogno di ricordarmi di ritirare la lavanderia a secco sulla via del ritorno. Grazie per avermelo ricordato. Nessun problema è sempre bene avere un piccolo promemoria. Lavare il bucato può essere un compito arduo a volte. Lo stai facendo da solo? Sì, preferisco fare il bucato da solo. Mi dà un senso di realizzazione. Inoltre, posso occuparmi adeguatamente degli oggetti delicati. È fantastico. Fare il bucato da soli può essere gratificante. Hai qualche consiglio per eliminare le macchie più resistenti? Assolutamente. Per le macchie più resistenti, di solito le pretratto con uno smacchiatore prima di lavarle. Aiuta ad abbattere la macchia e ad aumentare le possibilità di rimozione completa. Il pretrattamento delle macchie è un consiglio utile. Lo terrò a mente. Separate i vestiti prima di lavarli? Sì, separo sempre i miei vestiti in pile diverse in base al colore e al tipo di tessuto. Previene lo scolorimento e garantisce che ogni articolo riceva la cura appropriata. Separare i vestiti è una buona pratica. Aiuta a mantenere la qualità dei capi. Hai dei prodotti per il bucato preferiti? Preferisco usare un detersivo per bucato delicato adatto a diversi tipi di tessuto. È importante scegliere prodotti che non causino danni o irritazioni. La scelta dei prodotti per il bucato giusti è fondamentale. I detergenti delicati sono ideali per preservare la qualità dei vestiti. C'è qualcos'altro che fai per semplificare il processo di lavanderia? Per semplificare le cose, cerco di stabilire una routine. Dedico giorni specifici al bucato, in modo che non si accumuli. Mi aiuta a rimanere organizzato. Avere una routine di lavanderia è un approccio intelligente. Assicura che il compito non diventi travolgente. Grazie per aver condiviso le tue informazioni sulla lavanderia. Lezione 15. Il potere della preparazione. Ciao Anna, sapevi che la fiducia spesso deriva dall'essere ben preparati? Ciao John. Assolutamente. Quando sai di aver svolto il lavoro e la preparazione necessari, aumenta la tua fiducia in ogni situazione. Giusto. Che si tratti di una presentazione, di un esame o anche di un colloquio di lavoro, essere ben preparati ti consente di mostrare le tue conoscenze e abilità. Sicuramente. La preparazione ci aiuta a sentirci più in controllo e pronti ad affrontare le sfide. Riduce al minimo le possibilità di sentirci sopraffatti o ansiosi. Sicuramente sì. Quando siamo ben preparati, possiamo affrontare le attività con un senso di calma e chiarezza. Hai mai sperimentato in prima persona i vantaggi della preparazione? Assolutamente. Ricordo una volta in cui dovevo fare una presentazione. Ho passato ore a fare ricerche, a organizzare i miei pensieri e a fare pratica con la consegna. Ha fatto un'enorme differenza nel mio livello di fiducia. È fantastico da sentire. La preparazione paga davvero. È incredibile quanto possiamo sentirci più a nostro agio dopo aver fatto i compiti. Esistono strategie specifiche che utilizzi per prepararti a eventi importanti? Sì, trovo che creare un piano dettagliato o una lista di controllo mi aiuti a rimanere organizzato. Suddividere l'attività in fasi più piccole la rende più gestibile e mi assicura di coprire tutti gli aspetti necessari. Avere una lista di controllo è un'ottima idea. Ti mantiene concentrato e assicura che nulla venga trascurato. Ci sono altre tecniche che trovi utili? Un'altra tecnica che trovo utile è visualizzare il successo. Immagino di comportarmi bene o di raggiungere i miei obiettivi. Aiuta a costruire una mentalità positiva e aumenta ulteriormente la mia fiducia. Visualizzare il successo è uno strumento potente. Aiuta a creare una mentalità positiva e rafforza la nostra fiducia nelle nostre capacità. C'è altro che vorresti condividere sull'importanza della preparazione? Un'ultima cosa che vorrei menzionare è l'importanza della pratica. Che si tratti di provare un discorso, risolvere problemi pratici o fare simulazioni di colloqui, la pratica aiuta ad affinare le nostre capacità e aumenta la fiducia in noi stessi. La pratica fa davvero la differenza. Più ci esercitiamo, più ci sentiamo a nostro agio e sicuri di noi stessi. Grazie per aver condiviso le tue opinioni sul potere della preparazione. Lezione 16. Scambio di informazioni di contatto. Ciao Anna, mi sono appena reso conto che non ci siamo ancora scambiati i dati di contatto. Posso avere il tuo nome e numero di contatto? Ciao John. Certo, ecco il mio nome e numero. Mi chiamo Anna Thompson e il mio numero è 555-1234. Grazie, lo apprezzo. Mi chiamo John Smith e il mio numero è 555-5678. Capito? Grazie salverò subito il tuo numero. È sempre importante avere le informazioni di contatto a portata di mano, vero? Assolutamente. Avere le informazioni di contatto prontamente disponibili ci aiuta a rimanere in contatto e garantisce una comunicazione fluida. A proposito, preferisci mandare SMS o chiamare? Dipende dalla situazione. Per aggiornamenti rapidi o domande semplici, gli SMS funzionano bene. Ma per discussioni più dettagliate o questioni urgenti, preferisco chiamare. Questo ha senso. Gli SMS sono utili per i messaggi brevi, mentre le chiamate consentono una conversazione più immediata e interattiva. È utile conoscere le tue preferenze. Allo stesso modo, è importante rispettare le preferenze comunicative e reciproche per un'interazione efficace. C'è altro che vorresti sapere o discutere? A dire il vero, ho ancora una domanda. Utilizzi app di messaggistica o piattaforme di social media a cui possiamo connetterci? Sì, sono attivo su WhatsApp e Instagram. Possiamo sicuramente connetterci su quelle piattaforme, se lo desideri. Sembra fantastico. Ti aggiungerò su WhatsApp e ti seguirò su Instagram. Sarà un buon modo per rimanere in contatto al di fuori delle normali chiamate o messaggi. Eccellente! Terrò d'occhio le tue richieste. È sempre bello avere più canali di comunicazione. Assicura che possiamo raggiungerci facilmente. Assolutamente. I molteplici canali di comunicazione offrono flessibilità e convenienza. Grazie per aver condiviso le tue informazioni di contatto e le tue preferenze. Lezione 17. Mancia e precauzioni di sicurezza. Salve Anna. Sapevi che è consuetudine arrotondare la tariffa come mancia? Ciao John. Sì, dare una mancia è una pratica comune per dimostrare apprezzamento per un buon servizio. È un modo per riconoscere gli sforzi del fornitore di servizi. Giusto. È importante considerare la qualità del servizio ricevuto nel determinare l'importo della mancia. Ti sei mai imbattuto in situazioni in cui non era prevista la mancia? Assolutamente. In alcuni paesi, dare una mancia potrebbe non essere una pratica comune o addirittura essere considerata maleducata. È sempre una buona idea informarsi sulla dogana delle mance prima di recarsi in un nuovo posto. La ricerca delle usanze locali è essenziale per evitare malintesi. È importante rispettare le norme culturali del luogo che stai visitando. A proposito di viaggi, ci sono precauzioni di sicurezza che prendi mentre esplori nuove destinazioni? Sicuramente. Mi assicuro sempre di conservare una copia dei miei documenti importanti come passaporti e documenti d'identità in un posto separato dagli originali. È una precauzione in caso di smarrimento o furto. Conservare copie di documenti importanti è una mossa intelligente. Può farti risparmiare un sacco di problemi in caso di uno sfortunato incidente. Ci sono altre misure di sicurezza che segui? Un'altra importante precauzione di sicurezza è quella di essere consapevoli dell'ambiente circostante ed evitare di esporre apertamente oggetti di valore in pubblico. Aiuta a ridurre al minimo il rischio di furto o di attirare attenzioni indesiderate. Essere vigili e discreti quando si tratta di oggetti di valore è fondamentale. È meglio prevenire che curare. Ci sono consigli specifici sulla sicurezza che hai imparato dai tuoi viaggi? Sì. Una lezione preziosa che ho imparato è cercare i numeri di emergenza locali e salvarli sul mio telefono. Garantisce un rapido accesso all'assistenza in caso di emergenza. Conoscere i numeri di emergenza locali è essenziale. Può fare una differenza significativa in situazioni critiche. Grazie per aver condiviso questi suggerimenti e informazioni sulla sicurezza. Lezione 18. Abitudini salutari per la colazione. Ciao Anna. Hai mai pensato all'importanza di fare una colazione adeguata? Ciao John. Assolutamente sì. La colazione viene spesso definita il pasto più importante della giornata. Fornisce l'energia e i nutrienti necessari per iniziare bene la giornata. Giusto. Una colazione nutriente può aiutare a migliorare la concentrazione, aumentare il metabolismo e fornire vitamine e minerali essenziali. Hai qualche opzione preferita per la colazione? Sicuramente. Mi piace mangiare una ciotola di farina d'avena con frutta fresca e un filo di miele. È una scelta salutare e saziante ricca di fibre e antiossidanti. Che mi dici di te? Sono un fan delle uova strapazzate con pane tostato integrale e contorno di avocado. È un pasto equilibrato che fornisce proteine, grassi sani e carboidrati complessi. Mi mantiene pieno di energia per tutta la mattinata. Sembra delizioso e nutriente. È fantastico includere una varietà di gruppi di alimenti nella nostra colazione per garantire un pasto completo. Ci sono altri vantaggi della colazione? Assolutamente. Fare colazione può aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue, ridurre il rischio di mangiare troppo nel corso della giornata e migliorare l'umore e la produttività generali. Dà un tono positivo alla giornata. Non potrei essere più d'accordo. La colazione pone davvero le basi per uno stile di vita sano. È importante dedicare del tempo a questo pasto essenziale. Hai qualche consiglio per chi ha difficoltà a fare colazione? Per le persone che trovano difficile fare colazione, può essere utile iniziare con piccole porzioni o optare per opzioni da asporto come frullati o semifreddi allo yogurt. Si tratta solo di trovare ciò che funziona meglio per te. Questo è un ottimo suggerimento. Rendere la colazione comoda e piacevole può incoraggiare coloro che faticano a sviluppare una routine per la colazione. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Qualche pensiero finale sulla colazione? Solo un promemoria che saltare la colazione può portare a una diminuzione dei livelli di energia, una riduzione della concentrazione e un potenziale eccesso di cibo nel corso della giornata. Vale la pena sforzarsi di dare la priorità a questo pasto importante. Assolutamente! Dare priorità alla colazione è un piccolo ma significativo passo verso uno stile di vita più sano. Grazie per aver discusso con me dell'importanza della colazione oggi. Siete i benvenuti. È stato un piacere parlare delle abitudini della colazione con te. Ricordiamoci di rifornirci con una colazione nutriente per iniziare ogni giornata con una nota positiva. Lezione 19. Barriere mentali e superamento di sé. Ciao Anna. Ultimamente ho pensato alla crescita personale. Per me, significa superare la barriera mentale che mi impone di sforzarmi durante compiti impegnativi. Che mi dici di te? Ciao John. Questo è un argomento interessante. Per me, si tratta di uscire dalla mia zona di comfort e cogliere nuove opportunità. Sforzarmi di provare cose nuove può intimidire. Ma alla fine è gratificante. Sono d'accordo uscire dalle nostre zone di comfort è dove avviene la vera crescita. È importante sfidare noi stessi e non lasciare che la paura ci freni. Come ci si motiva in queste situazioni? Stabilire obiettivi più piccoli è un'ottima strategia. Aiuta a mantenere lo slancio e dà un senso di realizzazione. Hai altre tecniche per superare le barriere mentali? Un'altra tecnica che trovo utile è il dialogo interiore positivo. Invece di concentrarmi sull'insicurezza, ricordo a me stesso i successi passati e credo nelle mie capacità. Il dialogo interiore positivo è potente. La nostra mentalità gioca un ruolo significativo nel modo in cui affrontiamo compiti difficili. Sostituendo i pensieri negativi con quelli positivi, possiamo cambiare prospettiva e ottenere risultati migliori. Hai affrontato sfide specifiche di recente? Sì, recentemente ho iniziato a parlare in pubblico, il che è sempre stato una sfida per me. Tuttavia, sono entrato a far parte di un club di conversazione dove posso esercitarmi e ricevere feedback costruttivi. Finora è stata un'ottima esperienza di apprendimento. È impressionante. Parlare in pubblico può essere piuttosto scoraggiante, ma cercare opportunità di pratica e feedback è un approccio proattivo. Dimostra la tua determinazione a superare questa sfida. C'è qualche consiglio che daresti ad altri che affrontano barriere mentali simili? Assolutamente. Il mio consiglio è di accettare il disagio e vederlo come un'opportunità di crescita. Circondatevi di persone che vi supportano. Stabilite obiettivi realistici e festeggiate le piccole vittorie. Ricorda che il progresso è più importante della perfezione. Questi sono ottimi consigli. Accettare il disagio e concentrarsi sul progresso piuttosto che sulla perfezione può fare una differenza significativa. Grazie per aver condiviso le tue idee su come superare le barriere mentali e spingerci oltre. Ciao Anna. Hai mai collaborato con organizzazioni esistenti per una causa che ti appassiona? Ciao John. Sì, ho contattato un banco alimentare locale per discutere dei potenziali modi per contribuire e avere un impatto positivo nella nostra comunità. È un ottimo modo per sostenere una causa in cui credo. Hai avuto esperienze simili? Assolutamente. L'anno scorso ho partecipato come volontaria a un programma di tutoraggio per i giovani. È stato gratificante lavorare con un'organizzazione dedicata a responsabilizzare i giovani e ad aiutarli a raggiungere il loro pieno potenziale. Come ti sei avvicinato al banco alimentare? Ho iniziato facendo ricerche sulla missione del banco alimentare e sulle iniziative in corso. Poi, li ho contattati via e-mail, esprimendo il mio interesse a partecipare e chiedendo se c'erano aree specifiche in cui avevano bisogno di supporto. Sono stati molto reattivi e hanno apprezzato l'assistenza. È fantastico. La ricerca e il contatto con le organizzazioni sono un approccio proattivo. Mostra un interesse genuino e consente una collaborazione più significativa. Avevi in mente qualche progetto specifico? Ho proposto di organizzare una raccolta alimentare comunitaria per sensibilizzare e raccogliere donazioni per il banco alimentare. Sono rimasti entusiasti dell'idea e hanno fornito indicazioni su come eseguirla in modo efficace. È stato uno sforzo collaborativo che ha coinvolto l'intera comunità. Organizzare una raccolta di cibo è un'iniziativa di grande impatto. Non solo risponde ai bisogni immediati della comunità, ma aumenta anche la consapevolezza sull'insicurezza alimentare. Hai dovuto affrontare delle difficoltà durante il processo? Una sfida era coordinare la logistica, ad esempio istituire punti di raccolta e garantire il corretto trasporto degli articoli donati. Tuttavia, con il supporto dei volontari e la guida del banco alimentare, siamo stati in grado di superare queste sfide con successo. Superare le sfide logistiche è fondamentale. È stimolante vedere come la collaborazione e il lavoro di squadra possano fare la differenza. Che consiglio daresti a qualcuno interessato a collaborare con le organizzazioni locali? Consiglierei loro di identificare una causa che li appassiona, di fare ricerche approfondite sulle organizzazioni esistenti e di rivolgersi con una proposta o un'idea chiara. È importante sottolineare il valore che possono apportare ed essere aperti alla collaborazione e alla guida dell'organizzazione. Questi sono consigli preziosi. Passione, ricerca e comunicazione efficace sono fondamentali quando si collabora con le organizzazioni locali. Grazie per aver condiviso la tua esperienza e le tue intuizioni su questo argomento. Lezione 21. Consigli per il noleggio auto. Ciao Anna, ho appena noleggiato un'auto per il nostro viaggio. Spero che tu abbia un'esperienza fluida con la tua auto a noleggio. Ciao John. È perfetto. Noleggiare un'auto può essere conveniente per esplorare nuovi posti. Hai qualche consiglio per un'esperienza senza problemi? Assolutamente. Innanzitutto, assicurati di ispezionare accuratamente l'auto prima di partire. Annota eventuali danni esistenti e segnalali alla società di noleggio. Questo è un buon punto. Documentare preventivamente eventuali danni eviterà malintesi in seguito. Cos'altro devo tenere a mente? Prima di metterti in viaggio, acquisisci familiarità con i comandi e le caratteristiche dell'auto. Regola gli specchietti, i fari e la posizione del sedile per garantire comfort e sicurezza. Familiarizzare con i comandi e le caratteristiche dell'auto è essenziale. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità. Ci sono consigli di guida specifici che mi consigliate? Sì, segui sempre le regole e i regolamenti locali sul traffico. Presta attenzione ai limiti di velocità, alla segnaletica stradale e alle restrizioni di parcheggio per evitare multe o sanzioni non necessarie. Il rispetto delle regole e dei regolamenti sul traffico è fondamentale per un viaggio regolare e senza problemi. Mi assicurerò di conoscere le regole locali. Qualche consiglio sulla navigazione? Utilizza un dispositivo GPS o un'app di navigazione sul tuo smartphone per percorrere strade sconosciute. Pianifica il percorso in anticipo per risparmiare tempo ed evitare di perderti. Un dispositivo GPS o un'app di navigazione saranno sicuramente utili. Pianificare il percorso in anticipo ci aiuterà a rimanere in pista. Che ne dici di fare rifornimento? Tieni d'occhio l'indicatore del livello del carburante e riempi il serbatoio prima che si esaurisca troppo. Individua in anticipo le stazioni di rifornimento nelle vicinanze, soprattutto quando viaggi in aree remote. Il monitoraggio dell'indicatore del livello del carburante e il rifornimento tempestivo sono importanti. Trovare le stazioni di rifornimento in anticipo ci salverà da potenziali problemi legati al carburante. Altro da considerare? Un ultimo consiglio. Fai attenzione a dove parcheggi l'auto a noleggio. Scegliete aree di parcheggio ben illuminate e sicure per ridurre il rischio di furti o danni. Parcheggiare in aree ben illuminate e sicure è una mossa intelligente. La protezione dell'auto a noleggio dovrebbe essere una priorità. Grazie per aver condiviso questi preziosi consigli sulle auto a noleggio. Siete i benvenuti. Spero che questi suggerimenti ti aiutino a vivere un'esperienza fluida e piacevole con la tua auto a noleggio. Ti auguro un viaggio fantastico. Lezione 22 La pianificazione è importante Ciao Anna, ho sentito che ha un orario molto intenso questa settimana. Forse dovremmo aspettare fino alla prossima settimana. Ciao John. Questo è interessante. È importante considerare la disponibilità di qualcuno prima di fare piani. Qual è il motivo della sua fitta agenda? Ha detto di avere diversi impegni e appuntamenti legati al lavoro nel corso della settimana. Sembra che non avrà molto tempo libero. Capisco. È fondamentale rispettare i suoi impegni e non aggiungere altro al suo piatto. Aspettare fino alla prossima settimana sembra una decisione ponderata. Ci sono giorni specifici della prossima settimana che funzionano bene per te? Sarò abbastanza flessibile la prossima settimana. Che ne dici di te? Hai giorni o orari preferiti? Ho alcuni impegni all'inizio della settimana, ma sono disponibile a partire da mercoledì. Giovedì o venerdì sarebbero l'ideale per me. Che mi dici di te? Giovedì o venerdì funziona bene anche per me. Puntiamo a uno di quei giorni. Possiamo ricontrollare con lui e confermare la disponibilità. Sembra un piano. Controlleremo i suoi orari e concluderemo la giornata di conseguenza. È importante rispettare il tempo e la disponibilità di tutti. Assolutamente. Rispettare gli orari degli altri e trovare un orario reciprocamente conveniente è fondamentale per una pianificazione senza intoppi. Ci assicureremo di comunicare i dettagli una volta che tutto sarà confermato. Ottimo! È essenziale avere una comunicazione chiara e tenere tutti aggiornati. Attendiamo la conferma e poi procediamo di conseguenza. Effettivamente. Una comunicazione chiara è fondamentale per una pianificazione e un coordinamento efficaci. Aspetteremo la conferma prima di procedere. Grazie per la comprensione. Ciao Anna, in genere sì, puoi trovare buoni affari su alcol e tabacco. Ciao John. Questo è interessante. È sempre bene sapere dove trovare prezzi convenienti. Hai in mente qualche posto specifico? Sicuramente. Alcuni negozi duty-free negli aeroporti o ai valichi di frontiera offrono spesso prezzi competitivi su alcolici e prodotti del tabacco. I negozi duty-free possono essere un'ottima opzione per trovare buoni affari. Ci sono altri posti dove possiamo trovare prezzi convenienti? Sì, i supermercati o i discount locali a volte hanno promozioni o sconti speciali anche su alcol e tabacco. I supermercati e i discount locali sono opzioni convenienti per trovare prezzi convenienti. Vale la pena dare un'occhiata alle loro promozioni. C'è qualcosa da tenere a mente mentre si cercano offerte? Quando cerchi offerte, è importante confrontare i prezzi e verificare eventuali restrizioni o limitazioni sulle quantità che puoi acquistare. È essenziale confrontare i prezzi ed essere consapevoli delle eventuali limitazioni. Dovremmo assicurarci di rispettare le norme e i regolamenti. Ci sono altri suggerimenti che puoi condividere? Un altro consiglio è quello di considerare l'acquisto all'ingrosso se sei un consumatore abituale. L'acquisto di quantità maggiori può spesso comportare prezzi unitari inferiori. L'acquisto all'ingrosso può essere una strategia intelligente per risparmiare denaro a lungo termine. È qualcosa da considerare per i consumatori abituali. Qualche idea finale sulla ricerca di buoni affari? Infine, è sempre una buona idea tenere d'occhio i saldi stagionali o gli eventi speciali in cui i prezzi potrebbero essere ulteriormente scontati. I saldi stagionali e gli eventi speciali sono ottime opportunità per trovare offerte ancora migliori. Rimanere informati su tali occasioni è utile. Grazie per aver condiviso questi consigli per la ricerca di occasioni vantaggiose. Siete i benvenuti. Trovare buoni affari su alcol e tabacco può aiutare a risparmiare. Ricordati di consumare sempre in modo responsabile. Ciao, Anna. Più a mio agio per me, capisco che i top larghi diano una sensazione rilassata e confortevole. Ciao, John. Questo è vero. I top larghi possono dare una sensazione di comfort e relax. Ci sono altri capi di abbigliamento che trovi comodi? Sicuramente. Trovo anche che i pantaloni o i leggings elasticizzati siano molto comodi da indossare tutti i giorni, soprattutto quando sono in movimento. Pantaloni o leggings elasticizzati sono davvero un'ottima scelta per il comfort. Consentono facilità di movimento e flessibilità. Quali tessuti specifici preferisci per un abbigliamento comodo? Personalmente trovo che i tessuti in cotone e lino siano molto comodi. Sono traspiranti e delicati sulla pelle, il che aumenta il comfort generale. I tessuti in cotone e lino sono scelte eccellenti per un abbigliamento comodo. Offrono traspirabilità e morbidezza al tatto. Che ne dici delle calzature? Cosa trovi comodo? Per le calzature, preferisco scarpe da ginnastica o ballerine. Offrono un buon sostegno e ammortizzazione, rendendo le lunghe passeggiate o le giornate impegnative più comode per i miei piedi. Sneakers e ballerine sono scelte pratiche per calzature comode. Il supporto e l'ammortizzazione sono essenziali per un'esperienza di camminata confortevole. Ci sono altri fattori che consideri per una moda confortevole? Sì, faccio attenzione anche alla vestibilità dei vestiti. Trovo che i capi ben aderenti, né troppo stretti né troppo larghi, offrano il perfetto equilibrio tra comfort e stile. Trovare la giusta vestibilità è fondamentale per una moda confortevole. È importante trovare un equilibrio tra comfort e stile. Qualche pensiero finale sull'abbigliamento comodo? Infine, il comfort è soggettivo ed è importante indossare ciò che ti fa sentire a tuo agio e sicuro di te. Le preferenze personali giocano un ruolo significativo nella scelta della moda comoda. Assolutamente! Comfort e sicurezza vanno di pari passo. Ogni individuo ha la propria definizione di ciò che si sente a proprio agio. Grazie per aver condiviso le tue opinioni sulla moda confortevole. Siete i benvenuti! La moda confortevole ci permette di sentirci al meglio e di goderci la giornata con facilità. Abbracciamo il comfort nelle nostre scelte di stile. Lezione 25 Passeggiate nella natura Ciao Anna, camminare nella natura mi schiarisce la mente. Sembra così pacifico. Ciao John! Le passeggiate nella natura possono essere incredibilmente rigeneranti. Dovrei provarlo qualche volta. Ci sono posti specifici che mi consigliate? Sicuramente! C'è un bellissimo parco nelle vicinanze con sentieri circondati da alberi e un lago sereno. È il posto perfetto per rilassarsi. Sembra adorabile. Essere circondati da alberi e da un lago tranquillo deve creare un'atmosfera rilassante. A che ora del giorno preferisci per le tue passeggiate nella natura? Di solito ci vado la mattina presto o nel tardo pomeriggio quando la temperatura è piacevole e c'è meno gente in giro. Aumenta la tranquillità. Le passeggiate mattutine o nel tardo pomeriggio sembrano perfette. È un ottimo modo per evitare la folla e godersi la serenità della natura. Hai notato qualche beneficio particolare da queste passeggiate? Le passeggiate nella natura non solo mi schieriscono la mente, ma mi aiutano anche a sentirmi più radicata e connessa al mondo naturale. Nel complesso è un'esperienza rinfrescante. Sentirsi radicati e connessi alla natura è davvero un meraviglioso vantaggio. Aiuta a creare un senso di armonia dentro di noi. Sono curioso di provarlo. C'è altro che ti piace durante le tue passeggiate? Mi piace anche osservare la fauna selvatica e ascoltare i suoni della natura. Un coro di uccelli che cantano o le foglie che frusciano al vento. Contribuisce a creare un'atmosfera tranquilla. Osservare la fauna selvatica e ascoltare i suoni della natura deve rendere la passeggiata ancora più coinvolgente e piacevole. Sembra un'esperienza davvero serena. Grazie per aver condiviso il tuo amore per le passeggiate nella natura. Siete i benvenuti. Le passeggiate nella natura offrono una tranquilla fuga dalla frenesia della vita. Spero che tu riesca a provarlo presto.